ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale io sono anita e come sempre questo è curiosando lanzarote bene amici io quest'oggi vi lascio subito in compagnia del video e vi ricordo ancora una volta nel caso in cui non l'abbiamo ancora fatto che potete cliccare sul pulsante iscriviti e attivare la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video adesso regia vai con le immagini grazie a tutti 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 grazie a tutti